Sentiamo questa novità del nostro negozio, il servizio che abbiamo in collaborazione con Digel. Digel è una marca tedesca di primissimo livello per quanto riguarda l'abbigliamento capo-spalla, quindi parliamo di abiti, pantaloni, fanno anche camice e un abbigliamento casual, ma il loro punto forte è proprio la scelta dei capi-spalla, quindi dei vestiti, delle giacche. Con Digel abbiamo la possibilità di offrire ai nostri clienti una scelta immensa. Questo è il nostro book che abbiamo sviluppato con Digel, in cui possiamo dare una scelta, vedete che fanno anche camice, però l'importante è la scelta dei tessuti. Questo book in tutte le sue sue sezioni ha una scelta di tessuti, da tessuti di altissimo livello a tessuti un pochino più economici, parliamo di Cerruti, Reda, Marzotto, quindi parliamo di tessuti di primissimo livello. La cosa interessante è che con Digel noi possiamo far scegliere al cliente il tessuto con il quale realizzeremo il vestito, a partire da una modellistica che abbiamo in negozio. La modellistica ovviamente si sviluppa su due filoni di taglie, la taglia un po' più comoda e la taglia un pochino meno larga. Quindi sono due, per capirci, due drop, come in Italia si usa il drop 0 e il drop 4, anche se i tedeschi questo non lo usano, usano un altro tipo di vestibilità, loro parlano di comfort, eccetera. La cosa interessante è che i tempi della realizzazione di un vestito scelto con Digel sono di una settimana, massimo dieci giorni. E fra tutti questi tessuti si può scegliere un vestito da realizzare anche, volendo, vedete che ce ne sono tantissimi, si può realizzare, dicevo, volendo anche con due pantaloni di ricambio, per esempio, o con una giacca, per esempio, di un colore e il pantalone di un altro, con taglia diversa, la giacca di una taglia e il pantalone di un'altra taglia. Ecco, queste sono tutte le possibilità che ci offre questo servizio di Digel, moltiplicando quindi tantissimo la scelta e l'offerta che il negozio può dare ai nostri clienti.